Ha avvicinato una comitiva di 11 adolescenti fra gli 11 e i 15 anni con un eloquente datemi tutti i soldi che avete in tasca o vi rubo le biciclette. Protagonista dell'atto intimidatorio è stato un 25enne già noto alle forze dell'ordine che nel tardo pomeriggio di sabato ha avvicinato con questa minaccia il gruppo di ragazzini in questione nei pressi dell'ingresso dell'Ipercop. 25enne già individuato dagli uomini della questura grazie al sangue freddo di uno dei ragazzi, un 14enne che al cospetto della minaccia ha reagito chiamando la polizia avvertendo di quanto stesse avvenendo. Per tutta risposta il 25enne ha deciso di rubare il cellulare al ragazzo dileguandosi ma la segnalazione alla questura è andata a buon fine con l'uomo che è stato intercettato poco dopo da una volante. 25enne che è stato condotto in questura assieme ai minori che accompagnati dai genitori hanno raccontato lo svolgersi dei fatti. Questa mattina il 25enne di origine tunisina è stato processato per direttissima nel tribunale di Pesaro. Gli è stato imposto l'obbligo di firma in questura tre volte la settimana. Poco più di una settimana fa lo stesso 25enne era già stato arrestato dalla polizia per il furto di una borsa e il tentato utilizzo di una carta di credito contenuta al suo interno.